Questo programma è offerto da Tecnocampus Venerdì 3 maggio, buongiorno da Teleprima Benvenuti anche oggi alla quotidiana Rassegna Stampa Che come ogni mattina è offerta da Tecnocampus Anche oggi vediamo che tanti sono i fatti in primo piano Ma subito si parte con la politica Visto che sul caso Siri si sono scatenate tutte le forze politiche in gioco E soprattutto Conte che adesso ha detto la sua E ovviamente ha fatto valere la sua presenza e soprattutto il suo potere Ma vediamo che cosa sta accadendo adesso nel governo E quali sono le notizie appunto dell'ultimo momento E lo vediamo subito col Corriere della Sera Dove in apertura troviamo proprio questo titolo Conte sfida Salvini via Siri Il Premier giusto che si dimette Il leader leghista me lo deve spiegare Deciderà il Consiglio dei Ministri Il sottosegretario non possono scaricarmi così Di maio all'alleato avanti Pensiamo a lavorare Infatti sale l'attenzione nella maggioranza per il caso Siri Il Premier Giuseppe Conte sfida il Vice Matteo Salvini E chiede la testa del sottosegretario leghista indagato Giusto che si dimetta E rivendica la decisione come massima autorità Replica il leader leghista Me lo deve spiegare l'altro Vice Premier Luigi Di Maio Invita l'alleato di governo a lasciarsi alle spalle il problema Pensiamo a lavorare Si difende Armando Siri Non possono scaricarmi così Risponde ancora Conte Le dimissioni o si danno o non si danno Le dimissioni future non hanno molto senso Adesso la palla passa al Consiglio dei Ministri Per la decisione definitiva E intanto vediamo quello che nell'editoriale Viene definito proprio L'orgoglio di un paese in bilico Ovviamente con due Vice Premier Che si trovano molto spesso Su due situazioni totalmente opposte In tanti campi E in questo caso ovviamente diametralmente divergenti Proprio per quanto riguarda il caso Siri E vediamo quelli che sono i punti di forza Ci voleva la visita di Mattarella a Parigi A 500 anni dalla morte di Leonardo Per farci riflettere sull'oro dell'Italia Degli italiani nel mondo Che in un tempo veloce come il nostro In cui nulla resta Un quadro dipinto oltre 5 secoli fa Di cui non si sa quasi niente Neppure con esattezza Che cosa e che cosa rappresenti Sta diventando il più celebre Che il suo artefice Sia oggi forse l'uomo più famoso della storia Una sorta di miracolo Dovuto a un genio italiano Per nascita, lingua, formazione Ma che non si era mai posto Il problema delle frontiere Politiche, culturali, mentali E ha avuto come orizzonte il mondo E come tempo l'eternità Infatti oggi tutti conoscono Leonardo Ovunque e per sempre Un genio però non è mai isolato Non a caso alla Gioconda E camminare lungo la grande galerie Cuore del museo più visitato al mondo E dell'orgoglio francese Fermarsi davanti a centinaia di opere Di commovente bellezza E realizzare che non ce n'è una sola Che non sia stata dipinta Da un italiano Poi i giudizi dei critici Possono cambiare Infatti cent'anni fa La Madonna eterea Mani giunte di Guido Reni Era considerata Più bella di quella morente Di Caravaggio Che le aveva dato I tratti di una prostituta Affogata nel Tevere L'importante è che Guido Reni All'epoca ha chiamato soltanto Guido O il Divino E Caravaggio Morto di febbre da solo Su una spiaggia Braccato da una condanna Possono dare insieme Come Apollo e Dioniso L'armonia E il mistero Insomma Questa è la nostra Italia Questa viene rappresentata Così nel mondo Come l'arte Che è al primo posto Ma nello stesso tempo Lo scontro frontale Proprio In termini pratici Di quelli che sono Gli esponenti di un governo Sempre più Ovviamente Sempre più Al raffronto Ma continuiamo a vedere La prima pagina Del Corriere della Sera Vediamo il commento Che viene fatto Proprio al caso Siri Movimento 5 Stelle Contro i Carroccio Una mossa spartiacque Ed ecco qua Il ben servito Che il premio Conte Ha dato ad Armando Siri Rappresenta la prima vera Sconfitta di Matteo Salvini E intanto Lì ti sospetti e dispetti I segreti di un duello Quello che è Il retroscena Di questa vicenda Siri è già un ex Sottosegretario Ma Salvini Non può aprire la crisi Non ora E comunque Non su una vicenda Giudiziaria E intanto Vediamo ancora Sempre per quanto riguarda I fatti Questa volta di cronaca Che però riguarda Nel mondo politico Perché si parla ancora una volta E in maniera Preponderante Della vicenda di Viterbo Della violenza Adoperata proprio Su una donna 36enne Da parte di due Esponenti di estrema destra Di Casa Pound E la vittima di Viterbo Adesso parla E infatti è uscita una dichiarazione Che ha fatto Questa donna Dice Io ho paura E per di più Dice Non li perdonerò Il padre di un accusato Io gli ho detto Di buttare il cellulare E infatti Dice la donna Ho paura Ho paura di loro Ma non li perdonerò La donna Vittima di violenza Sessuale a Viterbo Ribadisce il suo terrore Di trovarsi davanti Ai propri aggressori Due esponenti di Casa Pound Uno dei quali Consigliere comunale Io Consenziente E uno schifo Spero che non li facciano Uscire dal carcero Ancora tanta paura E dall'ordinanza Di custodia cautelare Emerge negli sms Del padre di Riccardo Lici Uno degli arrestati Che li aveva Avvisati Della necessità Di cancellare il video E le chat E buttare via Il telefono E insomma Vediamo anche Il commento Che viene fatto Le parole E i gesti Il vuoto Che si trova In famiglia Quel vuoto morale Che troppo spesso E alla base Di tutto ciò Sembra che tutto Sia possibile Tutto sia permesso E non ci sia Quella volontà Di essere persone Cosiddette per bene Ma non solo Per bene Soprattutto Con dei valori Fermi E capaci Di non andare Oltre quello Che è un no E vediamo infatti Che il padre E uno degli Stupratori di Viterbo Che dà consigli Al figlio Per far sparire Le prove O i genitori Degli Aguzzini Tutti i ragazzi Di Manduria Segni di un vuoto Morale Nelle famiglie Insomma Questo è quello Che è accaduto La prima reazione Probabilmente Questa È quella di Insabbiare tutto Ma davvero È questo L'insegnamento Che si vuole dare A chi comunque Ha commesso un reato Non stiamo parlando Di qualcosa Di banale E di infondato Ma qualcosa Che veramente Lascerà il segno In questa donna E credo anche In questi ragazzi O almeno Questo è quello Che oggi Noi ci auguriamo Ancora continuiamo A vedere i fatti In primo piano Sui quotidiani Nazionali Andiamo a vedere Che cosa racconta Nella giornata Di oggi Il fatto quotidiano E vediamo Che partiamo Proprio dall'alto Giorgetti Vuole che I Benetton Salvino All'Italia Il manager Di Atlantia Dice Che ora Hanno troppi Fronti Aperti Ma se arrivasse Un aiutino Ad autostrade Eccoci qua E ancora Vediamo Nella parte alta Della pagina La prova Che incastra Berlusconi I soldi a rubi Sul conto Del suo ex Trovati 400 mila euro Su un conto In Svizzera Infatti Le chat Tra i due Sono finite Nelle mani Dei PM Della procura Di Milano Ha pagato Per far tacere Te Non meri In faccia Lui Alla ragazza Che lo stava Accusando E ancora Anche da questa pagina Al Viterbo Potrebbe applicarsi La legge Su revenge Porn Stupro social Le chat Horror Che terrorizzano Casa Pound Chi ha ricevuto Le quattro fotografie E tre video Condivisi Sui due gruppi Di Whatsapp Questi Rischiano adesso Di essere indagati E intanto Nella parte centrale Della pagina Anche da questo Quotidiano Ovviamente La notizia Che oggi Fa tremare Il governo E via Siri Conte da una lezione Etica a Salvini Non per l'indagine Ma per i favori privati Il sottosegretario Fa il furbo Mi limetto Ma dopo L'interrogatorio Mai fissato Il premier Tra diritto Ora il consiglio Dei ministri Voterà La sua revoca Insomma Un gioco Delle parti In cui sembra Che chi Dovrebbe Effettivamente Prendersi Carico Di quella Che è la sua figura E soprattutto Di quello Che gli sta accadendo Fa un giro Di parole Ma soprattutto Un gioco Al rimpiatino E alla fine Il premier Conte Decide E mette Tutto In una maniera Diversa Da quella Che si era Prospettata Insomma Una discussione Senza fine E soprattutto Un'attesa E un limbo Che ancora Non si capiva Dove volessero portare E intanto Sulle regioni Si continua a discutere Intesa ancora Molto lontana Autonomia Altro stop La Lega La Stefani Fa propaganda Sui dati Partito Preso Dei pro E anti Infatti Partito Partito Preso Pro Governo Annuncia Trionfalmente Che siamo fuori Dalla recessione Grazie a quelli Descritti Per mesi Come Pressapochisti E Ciarlatani E intanto Nella parte Bassa Della pagina Vediamo Ancora Le notizie Che ovviamente Sgustano Un po' La mente La storia Diventa Sociale Eva Dottorevoli Testati Tra cui anche Corriere Che appena partito Un progettino Innovativo Consistente Nel raccontare Lo sterminio Nazista Su Instagram Trasformando In post E filmati Il contenuto Dei diari Di una Tredicenne Morta Ad Auschwitz Cosa Che ha avuto Pare il Plauso Del premier Israeliano Benjamin Netanyahu Che è come Dire il sigillo Papale Ce ne sarebbe Abbastanza Per metterci In guardia Un Veramente Un miliardario Ha un'idea Per migliorare Il mondo I media globali Chiamano questa idea Progetto E le cose Si fanno O non si fanno Quando sono progetti A meno che Non si tratti Di ospedale In costruzione Di solito Sono fregature politiche O start up Schiavistiche Installazioni Di arte contemporanea O tutte e tre Le cose Insieme a parlare Di questa situazione È appunto Daniela Ranieri In questo articolo Di piede Nella prima pagina Del fatto quotidiano E che racconta Di una vicissitudine Che racconta Appunto La Shoah In termini pratici Vogliamo definirla così Però questa volta Su Instagram Ovviamente potrebbe essere Un'idea Per portarla a conoscenza Di tutti Ma lo sappiamo Che il problema grande Dei social network E che alla fine Tutto viene Incredibilmente Banalizzato E questo è un argomento Che non dovrebbe mai E poi mai Essere banalizzato E reso appunto Insulso Come può essere appunto Una situazione Quale un social network Ma continuiamo ancora A vedere i fatti In primo piano Ci spostiamo ora Sul libero Nonostante lo scandalo Siri Di Maio giù Salvini su I sondaggi premiano La Lega Malgrado L'offensiva Giustiziarista Di 5 Stelle Segno Che gli elettori Non ne possono più Delle incursioni Delle toghe in politica I grellini Disperati Giocano il tutto Per tutto Conte obbedisce A Movimento 5 Stelle Caccerò il sottosegretario Viminale Furibondo E intanto Vediamo nella parte centrale Il Cavaliere Ha superato Lazzaro Le infinite resurrezioni Di Berlusconi Raccontato da Farina In questa giornata E intanto Ogni giorno Un dato diverso Gli economisti O sono imbroglioni O incompetenti A dirlo è Vittorio Feltri Che questa mattina Presenta proprio Un quadro Degli economisti Che raccontano Un giorno Un'Italia Un giorno Un'altra Un giorno In crescita Un giorno In decrescita E un giorno Chissà Staremo a vedere Questo però Il risultato Sarà quello Che ci toccherà Sempre più da vicino E allora sì Che le parole Non avranno più senso Ma conteranno i fatti E staremo a vedere Se ovviamente Tutti noi ci troveremo A vivere un disagio Oppure no E magari ci troveremo Miliardari Ancora vediamo Nella parte sinistra Della pagina Strategie pre-elettorali Tre errori Di Matteo Ma di meglio Non può fare Tutto viene raccontato In questi Articoli Di prima pagina Intanto il calcio Applicato alla politica Prodi Farbauscia Il PD Imiti L'Ajax E intanto Macron Genio parigino La Francia Ci ruba pure Leonardo da Vinci Ma è colpa nostra E questo Sempre in relazione Ai 500 anni Dalla morte Di Leonardo da Vinci Celebrati ieri Ieri Mattarella E' stato appunto In Francia Ma a quanto pare Sembra l'ennesima situazione Che viene messa A discapito Proprio della nostra Italia E ancora Vediamo nella parte bassa Della pagina Che cosa Racconta Questa mattina libera Eccolo qua Anziani in società Per non finire Negli ospizi Lager Affitaro case Vivono insieme Per darsi Reciproco sostegno E questa potrebbe essere Veramente un'iniziativa Di quelle lodevoli E soprattutto Ottimali Per avere una vita Consistente Ma soprattutto Per non ridursi A vivere in Quei luoghi Che troppo spesso Sono considerati Esclusivamente Un luogo di passaggio E attesa Per una morte Certa Però nel peggiore Dei modi E intanto ancora Vediamo le altre notizie In primo piano Nella sua fondazione Infornata di Vipa Anche Gasparri Ha un salotto buono E insomma Anche questo Racconta Di una società Sempre più In continua evoluzione Ma continuiamo a vedere Il tempo Questa mattina Conte fa lo sgambetto A Sarvini Così apre proprio Questa testata romana Nella giornata di oggi Infatti il premier Annuncia Un monologo Alla stampa La revoca Del sottosegretario Leghista Siri Così accontenta Il Movimento 5 Stelle Ma per non irritare L'altro socio Fa finta Che l'indagine Non centri niente E intanto Vediamo nella parte Centrale Della pagina Ecco qua Un'immagine dei tre Conte Matteo Salvini E Di Maio E intanto Nella parte destra Bergoglio Contro il patto Lega Orban L'asse sovranista Si ritrova il Papa L'opposizione E da Berlusconi Ci domandiamo O meglio Si domanda il tempo Oggi Berlusconi Come sta L'ansia dei big Di Forza Italia Campagna elettorale In bilico E intanto Caserma Campidoglio La raggi Assume i generali Virginia affida 5 direzione strategica Ad alti ufficiali Dell'esercito L'ira dei sindacati E i concorsi Che fine hanno fatto E intanto Il Tar li lascia Solo a barre e ristoranti Niente tavoline all'esterno Per pizzerie E gelaterie A quanto pare La rivoluzione È raccontata Da questi Organi Quali sono appunto I magistrati Che decidono Appunto Di questa situazione E intanto Tra le vittime Anche Benigni La banda dell'arte Che finisce sotto processo E nella parte Più bassa Della pagina Eccoci qua Regolo per il tempo Dal ribelle del fumetto L'intervista È Leuteri Serpieri E insomma Eccolo qua La vediamo proprio Una immagine Ritratta Appunto Da questo artista E per quanto riguarda La prima parte Di questa rassegna stampa Vi lascio A qualche momento Di pubblicità Ma non temete Ritorniamo subito dopo E andiamo ancora A vedere tanti fatti Tanta informazione E soprattutto Non ve lo dico Ci vediamo dopo Ritorniamo 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 All'incrocio tra Caserta e il futuro È nato Tecnocampus Un centro direzionale moderno Frutto di un ambizioso progetto Di riqualificazione industriale Che ha messo la qualità del lavoro Al primo posto Tecnocampus Il nuovo centro direzionale di Caserta È collegato direttamente All'A30 Caserta Salerno E dista pochi minuti Dal centro di Caserta Tecnocampus SRL Viale Lincoln Zona industriale Ex San Goben Caserta Tecnocampus La soluzione Al centro Sempre venerdì 3 maggio Siete sempre in compagnia Della rassegna stampa Di Teleprima Sfogniamo ancora i quotidiani nazionali E vediamo ora la prima pagina Della Repubblica Andiamo a vedere proprio i fatti Di questa giornata Come vengono raccontati Da questa prima pagina Frattura scomposta E parliamo ancora una volta Di caso Siricaus Governo Di Maio Pressa E Conte Licenza Il sottosegretario leghista Salvini Spiazzato Mi devono spiegare Flat tax Provincia Sicurezza Maggioranza divisa su tutto L'intervista a Gentiloni Con loro l'Italia isolata Comunque uniti Nel nome del potere Questo è il commento Che viene fatto Proprio in relazione A queste vicende Che sembrano Almeno in un primo tempo Spaccare il governo Ma a quanto pare Il governo Mantiene ancora La sua unità E intanto Il voto Dell'Unione Europea E i 23 giorni Di supplizio Ormai ci siamo Mancano proprio 23 giorni A quel 26 maggio Che racconterà Forse una storia diversa Ma lo scopriremo Solamente all'indomani Delle votazioni E intanto Vediamo nella parte centrale Di questa pagina Una foto Che parla Di un'Europa Dei fili spinati In Ungheria Il patto Orbán Salvini Tedesco Meuthen Leader Dell'Afid L'ultradestra Sia L'ultradestra Sia Compatta E intanto Vediamo nella parte bassa Quella che Viene raccontata Come lo scenario L'illusione dei moderati Sul sovranismo E intanto Maduro attacca All'esercito Sta con me Gelo USA Russia E nella parte bassa Della pagina Vediamo qualcosa Che riguarda Lo sport Ma che colpanno Caster e Grit Se lo pone Appunto Come interrogativo Questa mattina La Repubblica E intanto I tre secondi Che hanno reso Messi assoluto E sembra essere Considerato appunto Il migliore Giocatore di calcio Attualmente In attività E ancora Vediamo le prime Pagine dei quotidiani Nazionali Continuiamo a vedere Oggi il mattino Vediamo che cosa Racconta oggi E vediamo che Nella parte alta Della pagina C'è un'intervista Il canto Antisocial Di Silvestri Non si può Vivere di soli Tweet Questo dice Il cantante E sembra essere così Però ormai Stiamo andando Sempre più alla deriva Sempre perché Si tende esclusivamente A comunicare Grazie a questi Messaggi Sempre più brevi Che lanciano messaggi Nel mondo Senza però Focalizzare l'attenzione Esclusivamente su nessuno Quasi come se Parlare l'uno con l'altro Sia diventato qualcosa Di difficile Di complicato Tant'è vero Che quando ci si trova Ad affrontare Un'altra persona Sembra che ci si trovi Sempre nella difficoltà Proprio dell'ascolto Perché si tende A far emergere Quello che è il proprio Desiderio di esprimere Un'opinione Di far arrivare Un messaggio Che magari non è quello Che in realtà Noi abbiamo Ma è quello che vorremmo Apparire di noi E di contro Quando gli altri ci parlano Che cosa accade? Che non ascoltiamo Non sentiamo assolutamente niente O stravolgiamo Qualsiasi cosa Ci viene detta Insomma È un gioco È un gioco che ormai Sembra essere Sempre più frequente A cui dovremmo però Prestare attenzione E riportare La nostra vita Verso quelle che sono Le fondamentali Esigenze Nostre Ossia la comunicazione E ancora vediamo Da Cagliari Prevendita flop San Paolo Il grande gelo Mai così in pochi Nell'era De Laurentiis Ormai Si sa Le partite Sono Volgono al termine Di conseguenza Avere Ovviamente I campi di calcio Non proprio pienissimi Purtroppo È un dispiacere Ma è una realtà Conclamata E intanto Ancora calciatori Razzisti Vergogna Brescia Festeggiata là Con i cori Contro Iter Un'ennesima volta Anche in questo caso Sembra proprio Che ci si trovi A vivere una realtà Tutt'altra che piacevole Visto che Oggi 2019 Si parla tanto Di uguaglianza Si parla tanto Di diritti E poi Nei minimi termini Si arriva proprio A questo Ossia A disprezzare Chiunque E ancora vediamo Nella parte alta Della pagina Silurato Siri Lo schiaffo Di Conte Alla Lega Il Premier La revoca Nel prossimo CDM Ma il sottosegretario Potrebbe dimettersi Salvini Fiducia inclinata Con Palazzo Chigi Silurato infatti Sottosegretario Leghista Siri La revoca Annunciato Il Premier Conte Avverrà nel prossimo Consiglio dei Ministri Ma lui potrebbe dimettersi E intanto E duro Salvini Inclinata La fiducia Conte Mentre Vediamo Il commento La visione Della giustizia Che separa I due Alleati Infatti La decisione Del Premier Conte Di estromettere Perché di Estromissione Si tratta Il sottosegretario Armando Siri Dal governo E di Difficie Interpretazione Perché Non sembra Ubbidire A una Valutazione Razionale E' vero Che la politica Ha spesso Delle ragioni Che la ragione Non conosce Ma allora Come ha detto Il Ministro Salvini Bisogna Spiegarlo Agli italiani E non Ovviamente E non crediamo Sia un compito Facile Per tre motivi In primo luogo Conte Ha premesso Che rispetta La presunzione Di innocenza Che non intende Condannare Nessuno E che in fondo Il suo è un giudizio Di opportunità Politica E non di valutazione Giuridica Ma questo è un Gerd Mott Infatti Perché i due aspetti Coincidono L'opportunità Politica Che dovrebbe Impedire La permanenza In carica Del sottosegretario Leghista Altro non è infatti Che il riflesso Dell'indagine In corso Un'indagine Sibadi Dove non solo Siri Non è nemmeno Imputato Ma dove gli indizi Sembrano poggiare Su intercettazioni Di cui nessuno Ha scritto La trascrizione Fonetica Insomma Ancora una volta Si parla di polemiche Proprio in merito A questa vicenda Nel prossimo Consiglio dei Ministri Si arriverà Appunto All'estromissione Di questo sottosegretario Ma ancora Ovviamente Tutto in divenire E intanto Vediamo Nella parte centrale Della pagina L'allarme Che viene lanciato Proprio da questa testata Cervelli del sud In fuga Tazze zero Per chi torna Il 90% del reddito Fuori dall'imponibile Per dieci anni A chi rientra Dall'estero Patti per il mezzogiorno Ma è scontro Tra regione e governo Vogliono cancellarli E infatti Questo è quello Che viene raccontato Proprio questa mattina Dal mattino E che andremo A vedere Nei particolari Dopo Intanto Vediamo I 500 anni Dalla morte Di Leonardo da Vinci Il primo genio Che voltò Le spalle All'Italia Ovviamente Fu un sultano sereno E appunto Fu una voglia Di andare via Fu quello Di Leonardo da Vinci Dal maggio Del 1517 Fino alla sua scomparsa 500 anni fa Il 2 maggio Del 1589 Il genio Di Viacidi Li ritrovò Nel castello Di Cruolius Presso Amboise La pace E insomma Questo è quello Che viene fatto Ovviamente Sempre più spesso Si cerca la pace All'estero Si cerca il lavoro All'estero E tutto diventa Occasione Per andare via Dall'Italia Col magone Perché ovviamente Si va via Sempre con la tristezza Nel cuore Però che cosa Si fa in cambio Questo è L'interrogativo Che rimane Sempre più pressante E soprattutto Che svuoterà Prima o poi L'Italia E ancora Vediamo le altre notizie In primo piano In cella Dopo lo spazio Corrotti Disabile in coma Ma per il giudice Resta agli arresti Napoli L'uomo Piantonato in ospedale La moglie Possiamo vederlo Onora E infatti In condizioni gravissime Giorgio Mancinelli Il 72enne Condannato Per banca rotta Fraudolenta E spedito in carcere Nonostante l'età Ma soprattutto Il grave stato Di saluta Ed ormai Incosciente Infatti È in coma I familiari Il nostro appello Ignorato dal Tribunale Di sorveglianza Anche questo Un forte allarme Che viene lanciato Da questa testata E ancora una volta Sembra che la giustizia Sia fuori Fuori da ogni ragione Ancora vediamo Nella parte centrale Della pagina Una notizia Che arriva Da Castelvolturno In merito All'ambiente Da tutelare Vediamo il prima E il dopo Abbattute le ville Abusive Sulla spiaggia Le ruspe Fanno rinascere Così Castelvolturno E ancora Nella parte più bassa Delle pagine Vediamo che cosa succede Le nuove regole Elementari Addio alle sospensioni Alle note Sul registro A quanto pare Niente più note Esplosione E provvedimenti disciplinali Alle scuole elementari E' stato un emendamento Al disegno Di legge Che reintroduce L'insegnamento Dell'educazione civica Nelle scuole Ad abrogare Gli articoli Di un reggio decreto Nel 1928 Che prevedevano Sanzioni disciplinari Note sul registro Ed esplosione Una decisione Che riapre il dibattito Sullo stato Della scuola E anche questo E' un dibattito Sempre acceso Ma è fermo Adesso vedremo Gli insegnanti Che cosa potranno fare Intanto Da Somma Vesuviana Soffitti troppo bassi Il liceo Dell'Archistar Non aprirà mai Anche questo Il limite Ovviamente A una cultura Sempre più limitata E limitante E ancora vediamo Le prime pagine quotidiane Nazionali Questa volta passiamo Al manifesto Andiamo a vedere L'articolo di apertura Ecco qua Non ci sono più I colpisti Di una volta Ma intanto Vediamo Nella parte centrale Vediamo Conte con Siri Che dice Ciao Siri Ultima puntata Della telenovela Siri Conte dimette Sottosegretario Che tenta in extremis L'autodifesa Lascio tra 15 giorni Se non mi archiviano Ma il premier Lo congeda Con un'improvvisata Conferenza stampa lampo La revoca al prossimo CDM Salvini intanto Abbozza E infatti Vediamo proprio Che Salvini Abbraccia anche Il muro di Orban E su questo Si trova ancora Una volta In scontro E visita elettorale Del ministro In Ungheria E intanto Nella parte bassa Della pagina Antirazzismo Napoli in marcia Prima le persone E infatti Prima le persone E lo slogan Lo stesso che Il 2 marzo Scorso portò Oltre 200.000 persone In piazza a Milano Scelto dai promotori Della marcia antirazzista Che domani Sfilerà a Napoli Con partenza alle 10.30 Da piazza Mancini Alla manifestazione Hanno aderito 200 Oltre 200 sigle E continuiamo a vedere Le notizie in primo piano Ci spostiamo adesso Su quelle che sono Le notizie sportive Andiamo a vedere Il Corriere dello Sport Che cosa racconta In questa giornata E vediamo Che si parte Dall'alto Con Allegri Che si conferma La giornata di campionato Scatta stasera Con Juve Toro E Max Prepara il vertice Con Agnelli A 70 anni Dalla tragedia Intanto Un racconto Emozionante E appunto Viene annunciata La mia superga E nella parte centrale Della pagina Eccolo qua Scacco a CR7 Punizione divina Messi risale Sul trono Del pallone d'oro Ed eccolo qua Nel trionfo del Barça Sui Red Leo incanta il mondo Adesso tocca a Ronaldo Stare a guardare E la pulce Viene definita Proprio così Oltre all'infinito E intanto La parabola Si fa storia E nella parte bassa Della pagina Europa League Arsenal Le Cersi Prenotano la finale Mentre il Brescia Ina Sogna Balotelli E nella parte Più bassa Della pagina Forza Iker Tutti con te E infatti Il dramma Casillas Infarto in campo Carriera finita Il mondo Lo abbraccia E lui saluta Da un letto Di ospedale Ovviamente Contento Di essere Al momento In salute E di aver vissuto Consapevole appunto Di aver vissuto Una brutta avventura Ma che comunque Sicuramente Gli cambierà la vita Ma non è detto In maniera negativa Continuiamo a vedere Gli altri fatti In primo piano Questa volta Da Tutto Sport E vediamo Che anche qui Abbiamo una notizia Proprio Di quelle Che fanno Tremare tutti E infatti Il derby d'Europa Stasera Juve Toro Solo la sfida Di Manchester Che vale di più E infatti Torino meglio Di Madrid De Londra Una stracittadina Scusate A top dei campionati Più importanti Del continente Nonaldo Per il titolo Di capocannoniere E per l'eterno Confronto a distanza Con Messi Belotti e Granata Per il sogno Champions E per onorare La memoria Degli eroi Di Superga Domani Il settantesimo Anniversario Infatti Della tragedia E intanto Nella parte bassa Della pagina Eccolo qua Messi La Serie A E il pallone D'oro E intanto Icardi E vediamo Infatti L'imbarazzo Di Inter E Milan Ancora Festa Brescia Ora Il sogno E Balotelli In Serie A Pensate un po' Dopo 8 anni E per quanto riguarda La rassegna stampa Relativa ai quotidiani Nazionali È tutto Vi lascio ancora Qualche momento Di pubblicità Ma ritorniamo Subito dopo E andiamo a vedere I fatti Che ci riguardano Più di avvicino Sia quelli Della regione Campania Con una particolare Attenzione a Caserta E la sua provincia Non andate via E la sua provincia E la sua provincia All'incrocio tra Caserta E il futuro È nato Tecnocampus Un centro direzionale Moderno Frutto di un ambizioso Progetto di riqualificazione Industriale Che ha messo La qualità del lavoro Al primo posto Tecnocampus Il nuovo centro direzionale Di Caserta È collegato direttamente All'A30 Caserta Salerno E dista pochi minuti Dal centro di Caserta Tecnocampus SRL Viale Lincoln Zona industriale Ex San Goben Caserta Tecnocampus La soluzione Al centro Venerdì 3 maggio Continuiamo la nostra rassegna stampa Questa volta andiamo a vedere le testate online Che riguardano la regione Campania In particolare la provincia di Caserta Ma cominciamo subito a vedere che cosa ci racconta questa mattina la Repubblica Che ci parla di ovviamente non sempre fatti negativi Infatti questa volta si parla di un ciac per l'amica geniale A Portalba infatti riaprono le librerie E questa è una bella notizia Infatti l'intervento ha richiesto attenzione E lunghe trattative Sotto carta da parati E un po' di ingegno da restauratori Portalba torna alle insegne delle vecchie librerie Ma anche della varietà di negozi Che col tempo si è persa Mettendone guai residenti Per il set di l'amica geniale di Elena Ferrante La seconda stagione della serie tv Diretta da Saverio Costanzo Dopo via Santa Teresa di Scalzi E piazza Carlo III A Proda nel centro storico Dove le cose sono un tantino più complicate Panni stesi alla revocazione storica Dei negozi e dell'area degli anni 60 Compresi annunci funebri E un grande manifesto del Partito Comunista Interessante anche per noi architetti Osserva Maria Luisa Margiotta Notare come grazie a opere precarie Un ambiente viene ricostruito La produzione voleva effettuare un restauro Fino ai primi piani degli edifici Ma si è trovata di fronte a un paradosso La soprintendenza infatti non ha autorizzato La ripulitura ai fini cinematografici Dei palazzi storici vincolati Gli edifici più antichi quindi Sono stati ricoperte di carte da parato Incollate e il resto ovviamente lo farà Photoshop Insomma qualcuno ha protestato Per cancellare i graffiti Dice un libraio hanno appiccicato carte Che poi ovviamente lasceranno il segno Insomma la Napoli bellissima Che però purtroppo su queste cose Continua ancora una volta a far parlare di sé Soprattutto Portalba Che era una zona fiorente E soprattutto ricca di cultura La vediamo adesso ovviamente In maniera piuttosto grottesca Rispetto a quello che è stato un passato florido Ancora vediamo le altre notizie Che arrivano dalla Repubblica Castelvolturno Vede le ruspe demolite Infatti villette abusive sulla spiaggia De Luca a fine dello scempio Abusi sulle aree del demanio Non sono mai stati sanati Infatti con l'avvio della demolizione Di queste villette abusive Sulla spiaggia di Bagnara a Castelvolturno Pogniamo fine a qualcosa di sconvolgente Uno scempio durato decenni Che ha distrutto uno dei litorali più belli E delle maggiori potenzialità Questi abusi realizzati su aree demaniali Non verranno mai sanati A dirlo è proprio il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca a Castelvolturno Dove ha presenziato la demolizione Del primo dei sei ruderi Una volta villette Delle vacanze realizzate abusivamente Proprio sulla spiaggia E ancora continuiamo a vedere le altre notizie Sempre da questa testata Ancora una volta si parla di un argomento Molto scottante Ossia scampia L'abbattimento della vela verde L'impresa firma patto civico anti racket L'intento è quello di mettere in moto un meccanismo virtuoso E costituire una rete di imprenditori sani della città Infatti nella sala giunta di Palazzo San Giacomo Il vice sindaco Enrico Panini E gli assessori alla cultura Nino Daniele Alla sicurezza Alessandra Clementi Al lavoro Monica Buonanno Hanno ricevuto all'amministratore dell'impresa Giudicataria delle operazioni Demolizione della vela verde scampia Per la sottoscrizione del patto civico anti racket Proprio della città di Napoli Ancora vediamo le altre notizie E in primo piano si parla ancora di bellezze tutte napoletane Restaurato infatti il cancello cinquecentesco dell'annunziata Che lo vediamo proprio in queste immagini Eccolo qua La gente, la folla che è intervenuta a questa Ovviamente a questo esempio di pulizia Ed eccolo qua Lo vediamo dall'interno Ancora Ecco le quali immagini proprio dall'interno E il sindaco che ovviamente apre Ed eccolo qua la chiave del cancello E vediamo infatti che è stato presentato il restauro del cancello Dell'ingresso principale del complesso della Santissima Annunziata All'inaugurazione hanno partecipato il sindaco di Napoli Luigi De Magistris Gli assessori all'urbanistica Carmine Piscopo e alla cultura Gaetano Daniele L'intervento ha riguardato il restauro e il ripristino funzionale del cancello cinquecentesco Chiuso da anni per motivi di sicurezza E la pulitura del basamento lapideo del campanile su via annunziata Ancora una volta dichiarano gli assessori La proficua collaborazione tra pubblica amministrazione e Lions Club International Ha non solo consentito di restaurare una parte importante del cinquecentesco campanile del complesso della Santissima Annunziata Ma soprattutto consentirà l'accesso da via annunziata a percorso museale Legato alla ruota degli esposti e appunto al succorpo Da oggi in poi sarà garantito un accesso più agevole e suggestivo Ai tanti turisti e cittadini che si recono al complesso monumentale Insomma la bellezza torna a splendere E ancora si parla di cultura con i musei Visto che proprio il governatore della Campania Vincenzo De Luca In questi giorni aveva lamentato un forte ritardo nella nomina del direttore della Regia E adesso vediamo che c'è l'annuncio Presto i nomi per Caserta e Pompei Bonisoli infatti ha intervistato personalmente i candidati E sarà resa nota nei prossimi giorni la decisione del ministro dei beni culturali Alberto Bonisoli Sui direttori dei musei della Galleria dell'Accademia di Venezia del Parco archeologico di Pompei E della Regia di Caserta e quanto rende noto il MIBAC Da alcuni giorni infatti nei locali del Dicastero di via del Collegio Romano Sono cominciati i colloqui degli aspiranti direttori che si concluderanno nel weekend Si tratta dell'ultima fase della selezione bandita dal MIBAC Che lo scorso 23 novembre ha pubblicato un avviso internazionale Per il conferimento dell'incarico di direttore dei tre istituti A verificare e disaminare i requisiti in possesso dei candidati che hanno risposto all'avviso È stata una commissione di 5 esperti nel settore dei beni culturali Che ha scelto una terna di candidati per ciascun sito Prima di sciogliere la riserva però Bonisoli ha deciso di intervistare personalmente i candidati Adesso aspettiamo e vedremo appunto se il direttore sarà nominato E soprattutto quanto tempo ci vorrà ancora Ma ancora continuiamo a vedere le notizie dal mattino Cervelli del Sud in fuga, tasse zero per chi torna a casa E questo è quello che viene raccontato appunto da queste pagine Infatti non più soltanto docenti universitari e grandi manager scappati all'estero Nel decreto cresce dal governo ma varrà soltanto dall'anno prossimo Ampliato ed esteso lo sgravio fiscale per i cervelli e le braccia che rientrano in Italia O gli stranieri che scelgono il bel paese per vivere e produrre ricchezza per tutti loro L'IRPEF si pagherà soltanto sul 30% dei redditi dichiarati Su una quota del 10% per professori e ricercatori Soprattutto il benefit viene applicato a tutti i lavoratori e a tutti gli imprenditori Che hanno passato fuori dai confini patri gli ultimi due anni E sono pronti a non ripartire per un altro bienio Insomma una forte agevolazione per queste persone che hanno vissuto comunque all'estero Scegliendo una soluzione alternativa e soprattutto potendo permettersi il lusso di conservare i propri soldi Che molto spesso in tasse o comunque in vari gabelli che vengono ovviamente istituiti Che cosa fanno? Semplicemente sottraggono capitale proprio a chi lavora e a chi ha un piccolo fondo che vorrebbe gestire in proprio Ancora vediamo le altre notizie in primo piano E ZES la campagna rilancia taglio IRAP Chi investirà, infatti la regione conferma Chi investirà nelle aree delle zone economiche speciali, le cosiddette ZES Avrà il taglio dell'IRAP nel triennio 2020-2022 Con l'obiettivo di arrivare anche all'abolizione totale dell'imposta E questo è il percorso, conferma il presidente Vincenzo De Luca In margine al premio Industria Felix Consegnato ieri a Città della Scienza 50 imprese campane per le positive performance dei loro bilanci La relativa necessaria delibera di giunta sarà approvata dopo l'ultima ricognizione contabile sul bilancio 2019 Ma la somma relativa alla copertura non dovrebbe assolutamente essere impossibile Tutto dipenderà dal preventivabile numero di imprese che faranno richiesta appunto per la ZES E ancora continuiamo a vedere le notizie in primo piano Ancora buone notizie questa volta per la plastica Napoli Plastic Free, soprattutto il lungomare Poche multe a quanto pare lo stop funziona Infatti otto locali verbalizzati sui 48 passati a setaccio L'ordinanza comunale Plastic Free esordisce dunque con un risultato Che da Palazzo San Giacomo considerano più che soddisfacente Il provvedimento finalizzato a contrastare l'aumento di rifiuti in plastica in alcune zone Adiacenti il lungomare cittadino da Pietrarsa a Coroglio è andato in vigore il primo maggio L'ordinanza fa divieto agli esercenti di utilizzare bicchieri, cannucce e stecche di plastica da asporto per i caffè Piatti, contenitori vari, bottiglie di plastica per bibite Se non di materiale biodegradabile o compostabile Insomma una rivoluzione in termine Proprio per l'utilizzo di questa plastica Quella che non è biodegradabile E che comunque continua ad inquirare i nostri mani Insomma si va sempre più verso un mondo plastic free Questo è l'augurio che ci facciamo Questo è l'augurio che si fanno un po' tutti Sperando che le persone riescano a comprendere l'utilità di questa situazione Ma ancora ci spostiamo sulle pagine dei quotidiani casertani Vediamo Caserta News questa mattina che cosa ci presenta tra i fatti principali E vediamo che è stato condannato l'ex boss dei casalesi Salvi altri 21 imputati Assoluzioni e prescrizioni a raffica per coloro che erano accusati di aver aiutato Nicola Panero Il processo nato dal ritrovamento di quattro carte di identità false E infatti 10 mesi di carcere e 100 euro di multa per Nicola Panero Prescrizione ed assoluzione per un'altra ventina di indagati E questa la sentenza emessa dalla prima sezione penale Collegio C del Tribunale di Santa Maria Capo Avetere Presidente Roberto Donatiello Al termine del processo per l'ex boss del clan dei casalesi Oggi divenuto collaboratore di giustizia E per una lunga serie di presunti fiancheggiatori Che lo avrebbero aiutato appunto durante la latitanza E ancora vediamo gli altri fatti in primo piano Nuove indagini per la morte di un trentenne in carcere Respinta all'archiviazione del caso Si segue ora l'ipotesi dell'omicidio colposo Infatti nuove indagini per la morte di V e trentenne di Maddaloni Che si è tolto la vita lo scorso mese di agosto Nel carcere di Poggio Reale Il giudice per le indagini preliminari di Napoli Ha respinto infatti la richiesta d'archiviazione In merito al presunto suicidio Ed ha richiesto un supplemento di indagini Ipotizzando l'omicidio colposo Per coloro che sarebbero stati deputati In realtà a vigilare Il trentenne che si implicò con un lenzuono Nel bagno della sua cella Era stato condannato a dieci anni Per il tentato omicidio della moglie Fin dai primi giorni manifestò però Intenti suicidi e autolesionistici In un primo periodo l'uomo fu tenuto In regime di stretta sorveglianza Del quale poi uscì Gli avvocati Sergio e Angelo Pisani Che difendono la famiglia del suicida Ritengono che presto la verità verrà a galla E intanto concludiamo questa rassegna stampa Con una notizia che riguarda il mondo sportivo Visto che è stato commissionato Un sondaggio sulla pallavolo femminile caserta Tra le simpatie ed antipatie Infatti fa aumentare lo share dello 0,2% Pensate un po' a livello nazionale L'11,50% nel centro sud E addirittura nel 40% in campania A dirlo è caserta prima pagina E infatti vediamo che il sondaggio È stato commissionato dal gruppo editoriale Teleprima Trenta giorni fa È stato dato mandato per capire Perché la pallavolo femminile Cammina più lentamente rispetto Ad altri sport cosiddetti minori Da questo sondaggio sono emersi Dati eccezionali per tutti La volato 2.0 detiene tante simpatie Ma anche tante antipatie a livello nazionale Ma soprattutto in campania Le ultime news del club volato 2.0 Infatti hanno fatto parlare tutta Italia Sia a favore che contro E ciò ha portato a uno sbalzo di share Facendo aumentare l'interesse intorno al volley femminile Questa notizia rappresenta un bel passo in avanti Sia per la Liga che per la FIPAP In quanto anche tutte le società del nord con caserta Potranno allargare i loro orizzonti Gli sponsor in tutto il sud Schiaccomatto insomma dalla Golden Tour di Povolato 2.0 Che ancora una volta si troverà ad affrontare la squadra di Trento E lo farà ovviamente domenica prossima Proprio per giocarsi l'opportunità di arrivare in serie a uno E per quanto riguarda la rassegna stampa di oggi Termina qui Vi ringrazio per aver scelto Teleprima Per essere stati con noi Come ogni giorno ringrazio Tecnocampus Che ci offre la possibilità di stare con voi Per raccontarvi l'informazione e soprattutto criticarla Ma facendolo in maniera obiettiva E soprattutto in modo da far emergere Quelli che sono i fatti principali Alla luce di tutto ciò che troppo spesso passa inosservato Grazie ancora, buona giornata a tutti E ci vediamo alla prossima puntata della rassegna stampa Ciao 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 Questo programma è stato offerto da Tecnocampus Tecnocampus